Ecco le parole di Amanda in piena notte in seguito a delle domande di Shaila Gatta Tra i concorrenti che ieri sera giovedì 19 settembre 2024 hanno varcata la porta rossa della casa del grande fratello troviamo Amanda Lecciso sorella della più conosciuta Loredana La donna ha fatto il suo ingresso nel reality di Canale 5 alla ricerca del riscatto Ieri notte dopo la diretta la donna era intenta a parlare con Shaila Gatta quando ha raccontato della sua vita, dei suoi due figli avuti da uomini diversi e della sua ben più nota sorella Loredana È proprio in questo momento che la giovane ex velina di Striscia, Shaila, si è permessa di chiedere a Amanda come ha vissuto il periodo in cui sua sorella Loredana era spesso al centro della tv tra balli e coreografie Continua dopo la foto, Amanda Lecciso è stata molto soft nella sua risposta senza andare troppo oltre e senza forse dire ciò che invece gli altri si sarebbero forse aspettati Quando mia sorella faceva i balletti in tv Beh, io in quegli anni avevo 15-16 anni, l'ho vissuta in maniera tranquilla, per me era divertente Grazie Grazie